È arrivata, è arrivata la sosta. Occhio ragazzi, guardia alta, guardia altissima. Ma non per fare il teatrale su YouTube, guardia altissima. Vi riassumo velocemente le nostre soste di questa stagione. Sosta di settembre, Milano ha vinto a Roma, tre vittorie su tre punteggio pieno. Scoppia lo scandalo delle scommesse clandestine dei calciatori. Ah, guardate, dicevano le previsioni, scandalo apocalittico, catastrofico, rischia di spazzar via tutto il calcio italiano, elenchi chilometrici di giocatori, tutti i campionati con i molti. Cos'è rimasto? Lui, Tonali. Alla fine, lo scandalo delle scommesse dei calciatori si era ridotto a, nel retropensiero di molti, nelle perorazioni di molti, nelle invocazioni di molti, al fatto che il Newcastle non doveva pagare Tonali al Milan. Insomma, grande scandalo, ma alla fine l'unica tesi era che i soldi al Milan non devono arrivare. Capito? In estrema sintesi che cos'era lo scandalo? Beh. Sosta di ottobre. Sosta che arriva dopo Genua-Milan. Mignan espulso, Giroud in porta, crimini assortiti invocati, anche qui con invocazioni e ferrorazioni in tutte le sedi e soprattutto il gol di Pulisic. Che non succeda più, ci è stato detto, ci hanno mandato a dire. Quel gol di Pulisic che io in tv avevo condensato in spalla, scella, petto gol. Ecco, è lì, quindi, a Milan, primo, eravamo dopo Genua-Milan, a metà ottobre, primi di ottobre, eravamo primi in classifica con due punti di vantaggio sull'Inter che era seconda. E, naturalmente, vuoi che questo momento il tifoso milanista se lo possa godere? No, scandalo Pulisic, scandalo Mignan, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, noi ci mettiamo del nostro, perché purtroppo durante la sosta, con Mignan squalificato per un turno, si fa male Sportiello. E andiamo a giocare contro la Juventus con Mirante, terzo portiere. Mirante che ha fatto una partita dignitosissima e professionalissima, Antonio. Antonio non è minimamente in discussione, però è chiaro che poi la sosta è stata trascorsa a parlare non del nostro primo posto, ma del fallo di Mignan, del gol di Pulisic e dell'infortunio di Sportiello, per cui te la sei goduta a zero. Bene. La sosta di novembre? Beh, la sosta di novembre è stata abbastanza tosta, non so se ve la ricordate. Pareggio di Lecce 2-2, quella partita che noi vincevamo 2-0, abbiamo sfiorato il 3-0, poi Lecce rimonta, si infortunano Leao e Calabria e Giroud viene espulso. Quando in realtà aveva ragione, ha reagito male, ma aveva ragione, perché c'era fallo su di lui, punizione dal limite per il Milan. Invece ti sono anche venuti a dire che Giroud avesse ragione, è stato bellamente ignorato e rimosso. Però ti sono venuti a dire, perché se poi c'è il calcio di punizione a favore del Milan, presumibilmente non c'è il gol del 3-2 di Piccoli dopo il fallo su Chao, però questo te lo rimuovono. E quindi tu sai, tu sai, dopo Lecce e Milan, che c'è tensione, tifosi insoddisfatti, Leao e Calabria che si sono fatti male, Leao che con ogni probabilità non giocherà contro il Borussia Dortmund nella gara decisiva di Champions League, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi figuratevi che sosta è stata. E adesso inizia questa sosta. Inizia questa sosta, io spero che Caluru riprenda, perché ieri noi a Verona abbiamo dimostrato una salute mentale, atletica, tecnica, fisica, perché il solito Milan magari poteva fare quello che, ma siamo stanchi da Praga, il Verona è forte, invece no, siamo andati in campo da squadra risoluta, da squadra che fa tre gol, che preme due traverse, che lascia lì diverse occasioni, insomma, da squadra importante, perché il Verona in questo 2024 è un osso durissimo per tutti. E questo succede perché stiamo bene, evidentemente il lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi di stagione a Milano, in ostando i suoi frutti, è perché riusciamo a ruotare bene i giocatori. Perché stiamo ruotando bene, tranne alcuni, Teo, Loftus, Pulisic, ruotiamo bene. Contro Lempoli non c'erano Leao e Florenzi squalificati. Quindi ruotiamo bene, stiamo bene. Quindi speriamo che Caluru riprenda da questa piccola distorsione, non lo aveva fatto ieri all'inizio, prima dell'inizio del secondo tempo a Verona, anche un piccolo provino, per vedere se ce la faceva. Quindi si è preferito non rischiare, ma se era in grado di fare un provino, mi auguro che così tanto male non stesse, perché per noi è fondamentale ruotare. Ad esempio, ieri, con gli attaccanti del Verona veloci, tu avevi la possibilità di mettere Caluru e Tomori, che sono i due difensori più veloci del Milan. Perché se li hai tutti a disposizione puoi ruotare, puoi fare i piani partita, puoi fare tante di quelle cose che in altri momenti della stagione Stefano Pioli non poteva fare. Quindi i centrocampisti, Benassero e Reinders, grande gara ieri, certo non hanno giocato a Praga, perché a Praga hanno giocato a Vliamusa. E quando puoi ruotare, poi i conti tornano. E quindi speriamo bene Caluru, speriamo bene tutti, ho visto una leggera zoppia di Mignani in finale di gara ieri, di Chierma, speriamo che restino paure mie, sono un momento che restino paure mie, e che la vita continui, non c'è nulla di particolare da segnalare su questo fronte. Però è fondamentale durante questa sosta per noi stare bene. Poi ho letto, e per il calcolo delle probabilità, una volta che la sosta ci lascia in pace, ci sta anche se guardia alta. Guardia alta perché leggevo con attenzione questa mattina su milanews.it, l'editoriale di Pietro Mazzara, molto interessante, perché sostiene cose e tesi fuori dal comune. Secondo Pietro, lui dice che questa inchiesta è stata fatta perché c'è un timore in città, in una città con tanto tifo per altri colori, che il Milan, con un forte socio medio orientale, possa piazzare la volata decisiva e avere sì una posizione dominante, ma tecnica e di mercato sul calcio italiano, non di altro tipo. Questa è un po' la tesi di Pietro Mazzara. E dice quindi, per questo mi aspetto, scrive Pietro, durante la sosta, altri particolari, altre cose, mi aspetto colpi di coda dell'inchiesta, perché su questo aspetto del Milan c'è particolare attenzione, quindi particolare accadimento. Io invece ho una sensazione, io non so se quella di Pietro sia giusta o sbagliata, come sensazione, e la sua sensazione ve l'ho riportata. La mia sensazione, che come ogni sensazione umana può essere a sua volta sbagliata, invece, è che la spettacolarizzazione della perquisizione della procura milanese ha prodotto comunque un sentimento di scetticismo nei confronti dell'inchiesta, ma non del Milan, che è parte in causa, di tutti gli osservatori che stanno dicendo. Ragazzi, e allora è lì l'accanimento, è lì che ci sarà accanimento. Ah sì? Ah, che cosa stiamo facendo? Adesso lo facciamo vedere noi, lì l'accanimento, ma è una mia sensazione. Spero e credo in fondo che non sia questo il tema, e che quindi non sia così, cioè ci saranno delle cose vere e fondate bene, altrimenti l'accanimento non sarebbe giusto, non sarebbe giustificato. Una cosa voglio dire però, che tutti i tasselli che stiamo mettendo insieme, perché vedete, io la chiamo bolla d'accompagnamento, un pezzo prestigioso di una grande firma, Luigi Ferrarella, Corriere della Sera, è stato il primo ricco di particolari, a perquisizione di Casamina l'ha appena finita. Lì c'era scritto, proprio a caratteri cubitali, aveva gli stessi caratteri delle altre righe, però i caratteri cubitali li ho visti. Ah ma non è mica un'iniziativa legata a Blue Sky, alla causa di Blue Sky? Ecco, questa cosa qui francamente, francamente no, francamente mi sembra assolutamente legata e collegata a quello, tutti i tasselli, tutti gli sviluppi, tutte le cose, cerchiamo il mediatore, perché non vogliamo che il Milan vada là, perché prima deve essere resa giustizia a Blue Sky, insomma tutti i tasselli mi fanno capire invece che quello che c'era scritto su quella che io chiamo senza mancanze di rispetto, ma per rendere l'idea bolla d'accompagnamento non era mica tanto vera. Poi chi l'ha scritta, l'ha scritta in totale buona fede e avendo fonti primarie, immagino, perché poi le fonti primarie e a certe firme prestigiose e importanti che si rivolgono, però io non sono tanto d'accordo con quella cosa lì, con quel concetto principale lì. Qui secondo me invece è tutto molto legato, è tutto molto così conseguente di quella causa che da ormai da tanto tempo in vari consessi, in vari tribunali, in vari gradi di giudizio non ha trovato soddisfazione. Ciao a tutti, a domani. Grazie. Grazie.